Benvenuti, sono l'architetto Tiziana Gallo e in questo corso vi guiderò l'apprendimento del software AutoCAD utilizzato in modalità 2D. AutoCAD è stato lanciato dalla software house Autodesk e appartiene alla categoria dei software CAD, ossia Computer Hided Design, disegno tecnico assistito dal lavoratore. Il documento prodotto è di tipo vettoriale, ovvero le entità grafiche sono definite come oggetti matematico-geometrici. Questo permette, diversamente da quanto accade nei documenti come le immagini, di scalarle e ingrandirle indefinitivamente senza perdita di risoluzione. E' inoltre uno dei software più usati nei vari campi della progettazione, per l'estrema precisione che consente di ottenere. Utilizzare AutoCAD oggi significa entrare in un circuito preferenziale, costituito da progettisti di alto livello che lavorano con un interscambio di file per mezzo di un software dotato di un linguaggio universale.